DS3 Crossback, equipaggiata con il cambio automatico e AT8, permette di muoversi con eleganza e dinamicità negli spostamenti nella città di Roma. In questa condizione, il sistema di guida semi-automatica di livello 3, il Drive Assist, alleggerisce il fastidio della guida stop and go, a cui spesso la città costringe. Il sistema di terzo livello, che è disponibile sia per i modelli con cambio automatico sia manuale, è in grado di controllare diversi parametri durante la guida, in funzione del livello di guida semi-automatica, dalla frenata di emergenza fino a 140 km all'ora, alla sorveglianza dell'angolo morto, ai sensori di parcheggio ai quali si affiancano il dispositivo di mantenimento dell'auto in corsia e il controllo adattivo della velocità. Nella configurazione più complessa, il sistema Drive Assist riconosce la segnaletica stradale e, interagendo con la sorveglianza dell'angolo morto, può intervenire sul volante in caso di pericolo. In autostrada, la guida semi-autonoma di DS3 Crossback presuppone il costante uso delle mani sul volante, dal quale possono essere tolte solo per pochi secondi. La disattivazione totale della guida semi-autonoma fa sì che non ci si possa distrarre approfittando dell'automatismo di bordo. DS3 Crossback permette una dinamica di marcia in totale sicurezza, con l'utilizzo di telecamere, sensori, lidar, telerilevamento con uso di laser e radar. In listino a Euro 1550. Motore PureTech di 1,2 litri, 3 cilindri, turbo, benzina. 155 cavalli con un'eccellente coppia di 240 Nm fin da 1750 giri al minuto. Doti tecniche che, insieme al già citato cambio a otto rapporti e a T8, ne fanno l'ambiente ideale per approfittare dei flussi di traffico e risolvere con rapidità il passaggio da un semoforo all'altro. 3. I livelli di allestimento comuni a tutte le motorizzazioni, so chic, performance line e business. Durante la marcia notturna, DS3 Crossback esprime con l'eleganza delle sue luci ciò che durante il giorno è la sua forte presenza su strada. In combinazione con l'Active Safety Brake e i radar di bordo, DS3 Crossback individua di giorni e di notte eventuali pericoli e dopo gli avvisi in mancanza di manovre di sicurezza da parte del conducente, entra in azione la frenata automatica con l'obiettivo di evitare la collisione o rallentare l'auto il più possibile. Il sistema è efficace da 5 a 140 km all'ora, manifestando la sua grande utilità sia nel traffico di città, sia nella circolazione extraurbana e in autostrada. DS3 Crossback è disponibile con 10 colori di carrozzeria, 3 colori per il tetto, 8 diversi design per i cerchi e 5 ispirazioni di ambiente per l'arredamento dell'abitacolo. Nella clip, l'allestimento degli interni del modello DS3 Crossback 155 è Opera Scuro.